Di Gregorio. Giurice manda Pessina in area. Pessina! Brescianini di prima, trova che tira. Appoggio per Arrui. Buona ripartenza del Frosinone. Palla al piede Arrui, prova a girarsi verso l'interno. Vede il movimento di Brescianini, gran palla Brescianini! Cristante. Occhio alla conclusione e al pallone che termina in rete. La Roma è di nuovo in vantaggio. La rete di Paolo Di Bala, che fa 2-1. Terran adesso. Leao. Può puntare Ulm. È pronto il ridoppio di Scalvini. Sfonda Leao! Martin, servito a sinistra. Il traversone basso Giannetti e poi la rovesciata. Ilver lo sito ma Öyle. Ilverso il delle mentalitàknike.